È noto soprattutto per aver doppiato Harvey Keitel in L'ultima tentazione di Cristo e Nowhere, Robert De Niro in Brazil e Angel Art Ascensore per l'Inferno, Craig T., Nelson in Turner e il Casinaro e Poltergeist demoniache presenze, Arnold Schwarzenegger in Iado, Liam Neeson in Excalibur, Tom Selleck in Tre Scapoli e Un Bebè, The Forest Kelly in Star Trek III. Alla ricerca di Spock, Terry Gilliam in Monty Python Il Senso della Vita, Gero de Depardia in Concorrenza Sleale e Tracei Walterini Cacciatore di Taglie. Nel 1985 dà la voce al malvagio re Cornelius nel film d'animazione della Disney Tarone e La Pentola. Magica. Nel 2009 recita in La Vita di Puccini. Malato da tempo. Viene a mancare il primo novembre 2015 all'età di 70 anni. Magica escize.